Ciao a tutti, io sono Valentina e benvenuti in un nuovo video Allora ragazzi, buongiorno, buongiorno Allora, dunque, prima di iniziare, come vedete ho veramente un filo, un filo di trucco Questo perché? Perché ho provato un nuovo mascara che non avevo mai provato prima E mi sono lasciata così perché ho detto non ci posso credere Mi avvicino, ma guardate le mie ciglia Sono enormi, lunghissime Sono qualcosa di veramente incredibile Infatti non ho voluto aggiungere altro perché questo mascara parla da solo E rientrerà sicuramente come secondo preferito dopo il Pupa Vamp Perché davvero questo mascara è strepitoso E sto parlando del mascara di Avon Esattamente questo, dell'Avon True L'Euforic, volume Questo qua Allora, non l'avevo mai provato Voi lo sapete, ormai mi conoscete Chi mi conosce lo sa Io uso solo ed esclusivamente il mascara della Pupa Vamp Perché mi trovo bene solo ed esclusivamente con quello Ma, visto che sta terminando, ho voluto provare questo oggi Me ne sono innamorata Era la prima volta che lo usavo Io voglio farvi notare E voglio che notiate ancora la bellezza Delle mie ciglia Proprio effetto ciglia finta Effetto bambola Me ne sono talmente innamorata Che non potevo non mostrarvelo E non parlarvene Scusate ma c'ho qualcosa nell'occhio Non sono abituata ad averle così lunghe le mie E mi da persin quasi fastidio Ma è una cosa stratosterica Quindi Io A tutti voi Che mi state guardando Voi appassionati del make up Voi che amate vedervi anche solo truccate con un filo di trucco E credetemi Io oggi non ho Né contouring Né primer Né sprefissante Né cipria Né niente Ho solamente un filo di fondotinta Avon True E la terra con solo il mascara Questo è il mio make up di oggi Un make up giornaliero che va benissimo dappertutto Fatto a questo punto esclusivamente con prodotti Avon Perché anche per quanto riguarda le sopracciglia Ho usato la matita Tattoo Brown Sempre dell'Avon Come potete vedere Con tre semplici prodotti Mascara fondotinta e terra Ho un make up Perfetto E ve lo straconsiglio Questo mascara Compratelo Perché ne vale davvero la pena E costa veramente pochissimo Bando alle ciance Allora io non sono qui per pubblicizzare il mascara Avon Anche perché ripeto Sono rimasta veramente sballordita Perché non riesco a smettere di guardarmi le ciglia Sono favolose Sono qui invece per mostrarvi Il pacco Avon che mi è arrivato Perché è gigantesco Ma nel vero senso della parola Ragazzi è gigantesco Ve lo faccio anche vedere Perché qui Guardate Pesa anche un macello Me lo sono dovuto portare su a casa Tirandolo per queste due cose Io non so che cosa ci si è dentro Perché per le cose che ho ordinato sinceramente Non vedevo la necessità di Tutto sto pacco Però è anche vero questo Io l'ho già detto Però lo ripeto Avon fa comunque sia tanti regali ai suoi consulenti Tanti omaggi E colgo l'occasione per dirvi A qualsiasi persona che mi stia ascoltando Che sia uomo Che sia donna Ragazzi Ragazze Perché insomma ricordiamolo Avon non è solo per le donne Ma coccola anche gli uomini E ne voglio approfittare Prima di aprire questo pacco Per dirvi questo Se volete unirvi al mio team Avon Siete i benvenuti Potete tranquillamente contentarmi in direct Su Instagram Uno dei tre profili Vedete voi quale Non c'è problema E unitevi a noi Nel senso Da quando lavoro in Avon Sto ricevendo veramente Tantissimi omaggi Tantissimi regali Inoltre il mio guadagno extra Ce lo c'è Ce lo C'è sempre C'è sempre Anche perché in questo pacco Vedrete quelli che saranno I miei omaggi Quelli che io Faccio Anzi andrò a fare A una ragazza che lavora con me Che è entrata nel giro da poco E che per darle ovviamente Il benvenuto nel nostro team Nel mio team E in quello di Francesco Mi ho dato Le regalo Facciamo così Le do un omaggio appunto Di benvenuto Quindi Se tu sei interessata Ad entrare a far parte Del mondo di Avon Non solo per avere I tuoi prodotti preferiti A prezzi veramente scontati Ma anche Per avere Un piccolo guadagno A fine mese E ricevere Tantissimi e bellissimi Regali da parte di Avon Entra nel mio team E inizia a lavorare con noi Ti aspetto Mi raccomando Detto questo Andiamo subito A scartare Questo misterioso pacco Allora Sono Ultra curiosa Di sapere L'omaggio Che Avon Ha pensato per me Questa volta Pensavo di essermi tagliata Ma invece no E andiamo ad aprirlo subito Anche questa volta Gli ordini Riguardano Le mie clienti Ma non solo Perché ho pensato anche A voi Qualora voi Interessati E non avete visto il catalogo Allora dunque Quanta meraviglia In un unico pacco Non l'ho davvero mai vista Allora Facciamo subito Tiriamo fuori Questi prodottini Allora Abbiamo E adesso ve li spiegherò subito Fatemeli prima Assemblare Ok Allora Abbiamo Questo bellissimo set Di Avon Senses Con Allora Questi tre prodottini Guardate quanto sono carini E il primo Ve lo dico subito È un sapone liquido Ha una buonissima profumazione Ve lo garantisco Il secondo È un gel doccia E idem per il terzo Quindi è un set Sapone liquido Più due D'ogna Gel doccia Bagno doccia Dalla profumazione Incredibile E rilassantissima È veramente unica Questa profumazione Ve lo assicuro Veramente molto D'impatto Buonissima Che io andrò A dare Ad un prezzo Veramente Scontatissimo A chiunque sia Interessato Veramente Ad un prezzo Ultra Scontato Comunque sia Questo set È Ultra Mega buono Dalla profumazione Fresca E super rilassante E lo consiglio Vivamente Andiamo avanti Poi Ho preso Questo qua È Red berries And chocolate No Buonissimo Cioè Se voi potesse sentire La fragranza Di questo Magno Schiuma È qualcosa di Insieme A questo Che è Attention Anche questo Strepitoso I bagno Schiuma Avon Sono Veramente Veramente Eccezionali Io ancora La romano È di là Ancora La devo Utilizzare Ma questo Per ora È il mio Preferito Quindi abbiamo Due di questi Bagno Schiumi Bagnoschiuma Li mettiamo Qua Poi Invece Allora Mi sono stati Riordinati Questo C'è Tanta roba Che Non riesco A Vedere Bene Comunque Mi è stato Riordinato Il set Ultimate Shine Il Balsamo Più lo Shampoo Più il Siero Che è Da qualche Parte Perché C'è Tantissima Roba Perché È Piaciuto Veramente Tanto Come set Quindi Mi è Stato Riordinato E Ve lo Consiglio Ve lo Stragonsiglio E Lo Mettiamo Qua Poi Sono Nata A Prendere Questo Shampoo Da 250 ml Ultra Smooth Questo Qua Insieme A La Maschera Senza Risciacquo Della Stessa Linea Per Questo Vi Dicevo Che Ho Preso Anche Delle Cosine Per Voi Perché Il Set Questo Qua Che Vi Ho Mostrato I Due Bagno Schiuma Questi Qua Che Vi Ho Mostrato E Questo Set Li Ho Presi Per Voi Qualora Voi Foste Interessati E Vi Invito Ulteriormente Ve lo Ricordo Sempre A Seguirmi Sulla Pagina Di Instagram Quella Delicata Appunto Avon Vale Underscore Consulente Avon Dove Appunto Potete Trovare Nelle Mie Stories Le Offerte Inerenti A Questi Quindi Contattatevi Indirect Se Volete Ottenerli Poi Andiamo Avanti Allora Qua ci sono Dei Prodottini Per La Ragazza Che Lavora Con me Che Sono Andata A Prenderle Dei Sacchettini Avon Giustamente Come Maggiore Benvenuto Insieme A Un Blocchetto Ordini Poi Andremo A Fare Il Pacchettino Però Ragazze Io Sono Curiosa Di Sapere Questa Ecco Questo Questo Qua E L'omaggio Di Avon Che Stavo Aspettando Veramente Da Tanto Tanto Tempo Questo Il mio Omaggio Personale Però Ve lo Voglio Far Vedere Alla Fine Così Vi Tengo Un Attimino Sulle Spine Un Po Di Safferiz Non Fa Male Lo Vedremo Dopo Poi Dunque Questo Fantastico Set Da Uomo Wild Country Che Contiene Adesso Ve lo dico subito Se non mi ricordo Male Perché contiene Un profumo Ok Un profumo Un bagno doccia E Un detergente corpo Se non vado errato Questo set qui Che mi è già stato Ordinato L'ho fermato Subito Perché è veramente A un prezzo Strepitoso E lo mettiamo Da parte Poi Sempre per voi Sono andata a prendere Due creme mani Una Alla Rosa E burro Se non vado errato E una Invece Al cocco Due profumazioni Strepitose Quella al cocco È fantastica Veramente Buonissima Mi ricorda Tantissimo Le spiagge Il mare Questa invece È molto delicata Comunque Due creme mani Fantastiche Questo intanto Lo mettiamo qua Facciamo così Sposto solamente Le cose che Io prendo per voi Da questo lato Così non ci confondiamo Questo anche Anche se È già Di una cliente Poi Sono andata a prendere Questo Deodorante Della Food Speed Per uomo Buonissimo Gabriele ha provato I campioncini Di profumo Della Amati Quindi ho pensato Di prendere Anche un Deodorante Sempre della Food Speed Non so se Leggete Perfetto Perché ha Un'ottima Profumazione E anche questo Super scontato Poi Dunque Un altro Bagno schiuma Però Questo qua È per una cliente Che va Insieme a quest'altro Perché in Campagna 5 C'è un'offerta Che non vi potete Perdere Su bagno schiuma Quindi due bagno schiuma Da un litro A soli 9 euro E vi ricordo Che la campagna 5 Terminerà Il 30 luglio Per cui avete ancora Tantissimo tempo Per fare tantissimi ordini E tanto vi ricordo Sempre che potete Trovare il link Del mio Algo store Giù sotto In info box Così che potrete Ordinare E ricevere Comodamente A casa vostra Dopodiché Andiamo avanti Dunque Qua abbiamo Una crema Della Nutra Etfet E un detergente In crema Poi Dunque Abbiamo Degli smalti Che adesso Vi mostro Allora Questo è Il semplice Top coat Da applicare Sullo smalto E lo mettiamo Qui Perché questo Va insieme Alla cliente Poi Uno di Questi smalti Questo Non è neanche È un nude Molto nude Come colore Però Molto bello Anche questo E Vediamo un po' Vi faccio vedere Anche l'altro Questo Fantastico Rosso Bellissimo Poi Ragazzi Questi colori Questi smalti Ve lo ricordo Si asciugano In neanche 60 secondi E ve lo posso garantire Perché li sto usando Anch'io Quindi Assicurati Proprio Qua abbiamo Altri Sacchetti Sempre per La ragazza Che si è unita Al mio team Avon Qui appunto C'è il siero Che va a completare Questo meraviglioso Set Che avete già visto L'altra volta E che ve lo consiglio Davvero tantissimo Poi Abbiamo ancora La mia Crema Da giorno Della Nutra Effect Per pelli Misto Grasse Quindi mattificante E non potevo Non averla Che andrò Sicuramente Ad utilizzarla Nella mia Skincare Al mattino Andando a sostituire Ahimè La mia Crema Pesca albicocca Che terrò Comunque Alla sera Con questa Dell'Avon Perché Voglio assolutamente Provarla Poi ancora Abbiamo Un Meraviglioso Rossetto Matte Legend Lipstick Di colorazione Rosso Ovviamente Ovviamente Non lo posso Aprire Perché Non è Per me Poi Troviamo Ancora Allora Dunque Ho richiesto Quattro cataloghi Di Campagna 7 Vi faccio Un piccolo Spoiler Quindi due Campagne In avanti Di cui Due di questi Cataloghi Andrò appunto A dare Alla mia Consulente Consulente Poi Giustamente Mi mandano Di nuovo I cataloghi Della Campagna 6 Perché Questi Non ci Bastano Mai Poi Andiamo a Vedere Il pezzo Forte Abbiamo Le matite Allora Abbiamo Due matite Biggel Nere Sono Quattro Due Per me Quindi Ve le posso Mostrare Perché Due le abbiamo Prese Di mia Mamma Finalmente Sono tornate Guardate Che tratto Appena Appoggiato Io Le adoro E vi ricordo Che sono Appunto Della Mark Ottime E me ne avete Sentito Parlare Riparlare Riparlare E come Vi stavo Dicendo Ne ho Prese Quattro Perché Due Per me E due Invece Per la mia Cliente Ultimo Ma non Meno Importante Sono andata A prendere Per mia Mamma E ce n'è Ancora Un altro Impacchettato Perché uno L'ho preso Per voi Un trattamento Levigante Istantaneo Per contorno Occhi Della A new Platinum Questo qua Quindi L'ho preso Uno per mia Mamma E uno Invece L'ho preso Per voi Qualora Fosti Interessati Mi raccomando Scrivetemi In direct Su Il mio profilo Instagram Di AVO O su quello Personale Se preferite Ora Momento Cruciale Io vi voglio Mostrare L'omaggio Che AVO Ha riservato Per me Consulente Siete pronti? E Guardate La bellezza AVO Mi ha Regalato La Beauty Box Di AVO Dove Dove Poter Andare Inserire Tutti I miei Makeup Ve la Apro Così E Bellissima Non bella E c'è anche La chiave Guardate E Favolosa E' Favolosa E' veramente Fantastica Il pack Mi piace Tantissimo E' anche Abbastanza Leggere Poi è molto Spaziosa All'interno Come potete Ben vedere E Questa E' finalmente La mia Beauty Box Che andrò A finalmente A sistemarmi Tutti i miei Trucchi Allora Cos'è da dirvi E ne ho una In particolare Se anche tu Vuoi ricevere In regalo Questa fantastica Beauty Box Di AVO Non ti rimane Che contattarmi Ed entrare A far parte Del mio Team AVO Insieme a Francesco Che ricordo Sempre Del canale Francesco Yves Rocher Non costa Assolutissimamente Nulla Anzi Ci andrete Solamente A guadagnare Voi Con i vostri Prodotti Preferiti E in più Tanti Omaggi Non solo Da parte Di AVO Ma anche Da parte Nostra Come AVO Leader Per cui Contattatemi Senza Impegno E Possiamo Parlare Tranquillamente Dei vostri Omaggi Nonché Dei vostri Anche Guadagni Che so Che è la parte Che più vi interessa Detto questo ragazzi Allora oggi Questa era la mia Unboxing Avon Sono super soddisfatta Di aver ricevuto Finalmente la mia Beauty Box Che non verrà l'ora Di andare a sistemare Perciò Cerco di tagliare corto E così Volerò in bagno Sistemare i miei trucchi Che dire Spero che questi prodotti Vi siano piaciuti Una parte Sicuramente Come vi ho già letto Andrò a consegnarle Alle mie clienti Una parte Invece Li ho Ordinati Solamente Per voi Ma Se volete rimanere Aggiornati Se ne volete Sapere di più Su questi prodotti Fantastici Che ho comprato Per voi Non vi resta Che seguirmi Su Instagram E vedere Se riuscite A raggiudicarvi Questi fantastici Prodottini Ad un prezzo Veramente Easy Easy Noi ragazzi Allora io a questo punto Vi dico Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi già al canale Lasciate un bel pollice Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Commentate Sono curiosissima Fatemi sapere Se vi piace La mia Beauty Box E se non me lo dite So che non siete arrivati Fino alla fine del video Detto questo Vi ricordo anche Di seguirmi Sulla pagina Facebook Sulla pagina Instagram Mi raccomando Giù sotto in info box Trovate il link Del mio Avon Store Dove Vi ripeto E vi ricordo Potrete ordinare I vostri prodotti preferiti A prezzi veramente scontati Ma non solo Li ordinate direttamente voi E vi arrivano Nel giro Di qualche giorno In base alla spedizione Che andrete a scegliere Direttamente A casa vostra Quindi voi non dovete fare Nient'altro Che fare in via ordine Quindi ragazzi Detto questo Io vi lancio Un enorme bacio Ci vediamo prestissimo Con un altro Divertentissimo Simpaticissimo Video insieme Ciao a tutti 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 Ciao a tutti